Giovanna Brandelli, come è noto il nuovo presidente dell'ACA, azienda comprensoriale acquedottistica, gestore idrico del Pescarese e di alcuni comuni della provincia di Chieti, tra cui il capoluogo Francavilla al Mare e del Terramano. Ingegnere chimico con le idee ben chiare ai primi progetti da attuare, ci parla anche del caos per le bollette dell'acqua mai ricapitate a fronte dei solleciti di pagamento. Quali sono i primi obiettivi? Prima di tutto creare un canale di comunicazione diretta con i comuni, perché voglio fare un calendario di ascolto dei comuni, in modo tale che i comuni portino le loro richieste in relazione al miglioramento delle reti e ACA riesce a gestire l'annoso problema della bonifica delle anagrafiche degli utenti. Poi bisogna intervenire sicuramente sulla efficienza del settore commerciale, quindi bisogna migliorare l'attenzione al cliente. In relazione al problema delle file, delle criticità che si sono palesate in questi giorni, innanzitutto dalla fine della settimana prossima viene istituito un infopoint, uno sportello di informazioni nella sede centrale di ACA, per ascoltare le richieste del cliente e smistarlo, almeno smistare i clienti negli uffici giusti. Poi verrà probabilmente creato un servizio mobile di informazione dei clienti. Si migliora sicuramente sempre, entro la settimana prossima, il grado di interattività del sito. Entro il mese riusciremo ad aprire lo sportello nella provincia terramana e riusciremo anche ad allungare gli orari di sportello per accogliere i clienti. In merito alle ultime vicende, questi solleciti che sono arrivati ai clienti senza le bollette, queste more, c'è modo di risolvere la situazione o no? Noi stiamo pagando lo scotto di un improvvido appalto fatto per il recapito delle bollette. Devo dire che ultimamente abbiamo centrato un obiettivo mai riuscito ad ACA, che era quello di infastidire i buoni pagatori, perché giustamente chi si vede recapitare un sollecito senza aver ricevuto la bolletta si infastidisce. E chiedo personalmente scusa di questo. Cercheremo di risolvere, ripeto, con l'ascolto e con la revisione, chiaramente in fattura, degli interessi di Mora.